Ciao a tutti e a tutte, questo nuovo video è un video di collaborazione, un'azienda mi ha contattato e mi ha mandato un oggetto, un braccialetto con dei charts e sono stata molto contenta di questa cosa perché comunque i video collaborazioni sono sempre ben accetti perché comunque si ha modo di ricevere comunque un regalo e di poterlo recensire e far vedere a voi. Allora, questo è il pacchetto come arriva, adesso vi faccio vedere tutto in dettaglio, qui parlo dell'azienda e tutto quanto. È un braccialetto in argento con componenti sempre in argento e nel box info poi vi metto tutte le informazioni perché mi hanno mandato un codice sconto del 5% che è valido per un mese e quindi nel box info poi metto tutte le informazioni, il link del sito e il codice dello sconto. Quindi adesso cambio inquadratura, riprendiamo il pacchetto, lo apriamo insieme e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, il pacchetto si presenta così con questa busta nera, andiamo ad aprire. ecco qui, questo è il nome dell'azienda e del marchio. È una scadeletta da di gastone, si apre in questo modo, poi ha un'altra busta imbottita, con all'interno questa bellissima confezione, è di cartone ma sembra di pelle perché ha tutte queste crepature che sembrano appunto della pelle. Qui è riprodotto il marchio, qua c'è un fiocchettino di nastro celeste chiaro, pure è bello pesantino. Poi dentro la scatola c'è un'altra busta per un'eventuale confezione regalo. Qui è riportato sempre il nome dell'azienda e del marchio, in entrambi i lati, in modo che può ospitare perfettamente il pacchettino. Quindi quando vi arriva a casa, vi arriva con tutta la confezione pronta per essere regalata. Adesso l'apriamo. Allora, io ho scelto questo bracciale morbido, ok ci ho messo un attimo per capire come funzionava, praticamente si apre il componente centrale, da una parte è fisso, da quest'altra è aperto, si mettono i gommini, i vari ciondolini e poi si richiude facendo un po' di forza e praticamente si realizza questo tipo di gioiello. Allora, vi faccio vedere, intanto nella scatolina c'è una pezzettina per pulirlo, perché comunque sono componenti d'argento 925, quindi possono essere puliti tranquillamente. E poi c'è il cuscinetto, la classica scatolina appunto da bigiotteria o comunque sia gioielleria, no? Bellissimi. Ci sono quattro gommini distanziatori e che bloccano i ciondolini e vi faccio vedere quelli che ho scelto io. Allora, il primo è la Torre Eiffel, vediamo, si vede, ok, perché io adoro Parigi, ci sono stata due volte, è bellissimo e quindi quando ho visto il chance della Torre Eiffel l'ho scelto subito. Poi, quando si va a Parigi, comunque una cosa indispensabile da portare è la macchinetta fotografica. E guardate quant'è carina questa miniatura e con tutti i particolari, con questo, penso, zircone al centro come obiettivo. qui è colorata tipo grigio e comunque tutta in argento. Ecco, vedete, non so se si riesce a leggere, 9,25. Ecco qui. Quindi questo è il secondo ciondolino. Poi, sempre quando si va a Parigi, ci si porta un'altra cosa indispensabile che è la valigia. Guardate quanto è simpatica, carinissima, con la targhettina, cioè è veramente carina. Se avesse le striscioline bianche qui sembrerebbe quella di Candy Candy, ve la ricordate? È molto 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 carina, colorata, l'ho scelta rossa e questo è il terzo Charles. Poi, volendo, quando si va a Parigi, magari si può prendere e affittare una macchinina. E io ho scelto questa qui. È tipo un modello della 500-600 antica, con sopra il portabagagli una tavola da serf. Certo a Parigi non serve la tavola da serf, però, insomma, era simpatica e mi piaceva e l'ho scelta. E poi, l'ultima cosa che non ci azzecca niente con Parigi, ma comunque ci azzecca con i viaggi, quindi con la macchinetta fotografica, con la valigia, questa pagoda. Vedete che carina. Mi piaceva, tra i tantissimi modelli che ci sono da scegliere, tra animaletti, oggettini vari, questa mi faceva molta simpatia e l'ho presa. Ho scelto tutti i charms che si infilano nel bracciale, non ho scelto nessun ciondolo e quindi poi il bracciale verrà composto appunto infilando i componenti appunto nel bracciale. Quindi io ringrazio ancora la Sufil, spero che si pronunci così, per questo meraviglioso regalo che comunque per un regalo sicuramente è un'ottima idea, un'ottima idea regalo, in quanto è prezioso e i costi non sono eccessivi, anche se diciamo ci sono componenti più preziosi o più costosi, però uno di questi può arrivare a costare diciamo un minimo da una base di una ventina di euro, perciò comunque accessibilissimo. ecco questo è il braccialetto così indossato con tutti i charms e messi un accanto all'altro e questo ecco l'effetto che fa sul sul mio polso. Bene, io ringrazio ancora la Sufil per questo bellissimo regalo, è arrivato anche abbastanza velocemente il pacco, io ho avuto solo un problema perché era stato mandato in un altro ufficio postale e ho perso un po' di tempo per recuperarlo, però i tempi di consegna sono anche molto veloci e quindi è tutto molto carino, tutto molto bello e spero che il video vi sia piaciuto, che insomma vi ho fatto vedere un qualcosa magari di nuovo che non conoscevate, io per esempio non la conoscevo e è stata una graditissima scoperta. Quindi al prossimo video e ci vediamo presto, ciao ciao!